Herblira, vici per la seconda stagione a Roma, iniziata benissimo con una vittoria, con la tua grande prestazione. Sì, è il secondo anno qua a Roma, è bellissimo sempre giocare con i colori di Roma. Dopo un anno bellissimo di anno scorso, vinto Coppa e campionato, non potevo non godere a uno con questa divisa. È iniziato con una partita veramente difficile, ma bellissima, con tante emozioni, tre e due. Adesso giochiamo questa domenica qua a casa con questo palazzetto, speriamo di fare bene e godere anche il palazzetto. Ecco, palazzetto che significa anche tu, tifo molto vicino, Roma mi sembra che ha già dimostrato l'anno scorso di volervi bene. Sì, è importante di avere i tifosi, avere questo palazzetto in centro di Roma, è normale e io spero che lo vedo pieno e spero che riusciamo di farle a venire tanta gente per vedere le nostre partite. Che ambizioni ha questa squadra? Arrivare più alto possibile, di fare meglio, sempre meglio. Grazie, grazie.